Alla fine della conferenza, un grande afflusso di pubblico, mille partecipanti, c'è la voglia di far ripartire la città? Sì, c'è la voglia di ricominciare a progettare, ricominciare a avere ambizione, far uscire la città da questa sorta di degrado, di disgregazione e la voglia quindi di ricreare anche un gruppo di persone che abbiano questo spirito. Quindi penso che sia stata una buona mattinata, sono state dette cose che andavano dette su quello che si è fatto nel 2000 e si sono messe a fuoco le cose che servono per guardare al futuro, cose che oggi non ci sono, capacità di progettazione, una forte capacità amministrativa e una visione. Cerchiamo di dare il nostro contributo. Ed è più che necessario e gradito per tutti. Grazie mille e buona giornata.